Ciao a tutti Dacia, sono Andrea Matti Giovannetti e oggi siamo qui per parlare di una PRS Custom 24 serie S, serie economica. In questo caso volevo presentarvi questo tipo di chitarra proprio per farvi vedere che nonostante la PRS abbia fatto questa serie economica, quindi ovviamente diversa da quelle che sono le serie americane, non abbiamo una mancanza strutturale quindi cosa vuol dire? Che se uno ha bisogno di uno strumento come il muletto per uno strumento decisamente più bello, piuttosto che uno vuole fare il salto di qualità da uno strumento economico e prendersi uno strumento che riesca ad accompagnarlo e a seguirlo per quello che riguarda il suo percorso musicale, in questo caso abbiamo veramente un signor strumento. Abbiamo una Custom 24 come tipologia di corpo, il manico in questo caso è un regular, quindi la via di mezzo tra UEFI e un FET, il corpo è in mogano con top in acero fiammato, in questo caso drop non carved, anche se dal NAM, dalla presentazione del NAM di quest'anno, quindi nel 2012, in avanti le Custom 24 se non solo saranno poi con il carnet top più o meno simile a quelle che sono le americane. Il manico è in acero, tastiere in palissandro, meccaniche PRS non non-locking, in questo caso un'elettronica più semplice dove abbiamo un volume, un tono e un selettore tra posizioni per il guardante. Sentiamo un po' come suona. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Ciao.